Bella a tutti i ragazzi, benvenuti in questo mondo Sì, siamo già partiti Sono ottavo perché ho fatto 10.10 minuti Dove si senteva male l'audio Piano, infatti io ora sto giudando come un cazzo Oddio, no, sbandato, sbandato, sbandato No, 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 non devo arrivare l'ultimo, non devo arrivare l'ultimo No, che cazzo, che cazzo, che cazzo Ho detto che se arrivavo qui in penultimo Non mangiavo qualcosa di orribile Se arrivavo in penultimo Perciò ragazzi, partiamo Andiamo alla discorsa per il penultimo posto Scusate, ero fatto partire in mezzo, perciò ero arrivato in spazio Poi quando c'è il figlio, sono arrivato in spazio Proprio quando io, avete visto ragazzi, ero ottavo, ero ottavo Quando io incomincio a fare il figlio, non trovo niente Come io, quindi succedeva con il back opening Alcune volte, poi altre volte mi trovo Però quando inizia a fare il figlio In dubbio, inizia una sfida Soprattutto quella, dai Ma anche il paleno, questo gioco Non so giocare Per la quarta volta che lo so Dai ragazzi, dai, dai Possiamo vincere Possiamo vincere Cioè, vincere per me è arrivare sessimo Per vincere, per me, è arrivare sessimo Lo ripeto, due volte No, più pazzo, però Ci va dai caso, però È la prima volta Prende questo senso Lo danno con i giochi mesi Andiamo alla riscorsa Le curve, io le odio Ma è una cazzo di una patruta dritta Perché i grigi, bianchi, bianchi Perché chi non ha mai preso In questa cazzo di macchina Perché non ha la patente Per entrare sotto Sessi Noo Ecco, ultima parte Apporto, ragazzi Ultimi Bello Bello Però è bellissimo Sì, fantastico Conutati Ma vi si dovrebbe rompere la macchina In questo proprio momento Così si supera a tutti andiamo andiamo almeno faccio un'uscita sbagliate l'ho riovinata rovinata del tutto schifezza mi ha preso 1.300 punti si aggiungono siamo arrivati penultimi però non ci farà niente ragazzi come sempre vi ricordo vi lasciate un bel like commentate anche se l'ho fatto tipo è già quasi finita la gara vabbè dai l'ho fatto all'ultimo registrato questo uscirà venerdì per poi uscire l'annuncio alle 8 ragazzi state attenti all'annuncio alle 8 perché domenica c'è la live la seconda ragazzi eravamo l'altra volta 4 spettatori saremmo di più perché lo metto spero saremmo di più poi all'altro giorno mancavano 4 persone io e 2 youtuber poi non ci fa niente 3 persone youtuber perciò mancavano 4 persone perciò eravamo 8 in tutto perché l'altra volta eravamo 4 perciò ragazzi perciò lascerò l'annuncio alle 8 perciò alle 8 tutti sintonizzati per vedere questo piccolo annuncio un minuto due minuti ma neanche due penso uno un minuto e mezzo per poi riportarci domenica alle 6 e mezza in live bella a tutti ragazzi lasciate un bel like dai che poi vi porto il secondo episodio ai giorni grazie a tutti